Lì tocchi dentro e ti sbilancia di là subito Ma poi lì c'è questo buco adesso Lì arrivi troppo lungo qua Ehi ciao Ehi dammi la licenza che te la faccio Adesso ce la fanno va Adesso ce la fanno con l'invito Ecco buon basta E' tutto è difficile E' tutta difficoltà eh non perché ti aiuta Perché così devi scegliere di qua Eh vedi Eh Montesa Montesa Sei in terza Seconda Che lecca ragazzi Ti ho messo una cazzata No no è giusta Ti devi farlo al contrario Ma va Sono stati messi apposta Tanto non li vedi neanche Ma dal contrario Ma dal contrario Que è perf Presidente Contrario Qu'è perfetto